Ceduto Riggio alla Fidelisandria, il Monopoli si concentra sulle trattative in entrata. La società non ha fatto mistero che le condizioni di Baraje, che non è rientrato alla base a gennaio, indurranno il direttore sportivo Marcello Chiricalo a cercare un esterno sinistro che possa dare il cambio a Ghiebre. Due nomi sul taccuino del dirigente monopolitano, Frascatore del Pescara e Brogni della Feralpi Salò. Frascatore, 30 anni compiuto il 4 gennaio dopo aver vinto il campionato scorso con la Ternana, alternandosi con Mammarella sulla fascia sinistra, è finito al Pescara di Auteri, dove ha collezionato 12 gettoni, di cui 7 dal primo minuto e una rete. Il giocatore percepisce un ingaggio fuori portata per il Monopoli, ma se il Pescara dovesse contribuire, l'operazione si potrebbe fare. Da capire anche se un giocatore che in carriera ha giocato diverse stagioni in Serie B accetterebbe il ruolo di viceghiebre. Diverso il discorso di Brogni, giocatore classe 2001, che contribuirebbe anche a fare minutaggio. Dopo una grande stagione con la gestione Pavanel, l'esterno scuola Atalanta è sceso in campo nella Feralpi Salò solo tre volte da titolare in questa stagione, chiuso dall'ex Inter e Palermo Corrado. Per lui Monopoli, secondo nel girone Cira, presenterebbe un'occasione, ma la concorrenza per un giocatore giovane e forte è sicuramente guerrita.